Marco Pigliapoco il quale era il più caro sì ma il più grande fabbricante di lame di Toledo che ci fosse a Monte Saponetta aveva un fratello Procopio Pigliapoco il quale era a sua volta il più rinomato costruttore in cementi armati di quella medesima città. Un giorno dopo lunghissimi studi Marco Pigliapoco inventò l'eoflexibiliferina la quale era un liquido giallognolo capace di dare alle sue lame una tale flessibilità e una tale elasticità da potere con una spada fare un nodo di cravatta. Per festeggiare l'invenzione diramò un invito a tutte le notabilità del paese e perché la festa fosse degna di lui ricorse all'aiuto di Donna Gaspara sua moglie che si era acquistata un'invidiabile rinomanza per i suoi bignè di crema alla vaniglia. Fu in questa circostanza appunto che Pepita, figlia di Marco e di Gasparo, Parapigliapoco sentì diffondersi per tutta la casa un odorino di crema e di vaniglia. Pepita aveva dieci anni ma era sviluppata come una ragazza di quindici che ne dimostri venti. In quanto a golosità però era peggio di una bambina di cinque anni sicché, fiutando come un segugio, si mise ad andare dietro all'odorino di stanza in stanza e andando dietro all'odorino di stanza in stanza capitò nello studio del padre. Qui pure nessuna presenza di crema alla vaniglia. In cambio però scorse su una scansia una bottiglia bianca con un liquido giallognolo e credendolo aranciata, come se a questo mondo ogni liquido giallognolo in una bottiglia bianca abbia l'obbligo di essere aranciata, si attaccò la bottiglia e la tracannò di un fiato. Quel liquido giallognolo non aveva affatto sapore di aranciata, ma quando Pepita se ne accorse l'aveva già bevuto tutto. Ne ebbe tempo di pensarci su perché, sentendo uno scarpiccio che si avvicinava, scappò a rinserrarsi in camera sua. La prima volta che si avvicinava, scappò a rinserrarsi in camera sua. La prima volta che si avvicinava, scappò a rinserrarsi in camera sua. Fu la bottiglia vuota e a quella vista ebbe tale una fitta di dolore che se per sua fortuna non fosse stato già calvo sarebbe incantito di un colpo. Allora cominciò a gridare disperatamente, chi ha vuotato questa bottiglia? Chi l'ha vuotata? La prima volta che si avvicinava, scappò a rinserrarsi in camera sua. Donna Gaspara, che si affannava in cucina da un fornello all'altro, sentendo il marito che gridava, corse con la padella in mano. Ma il marito, con un gran pugno sul fondo della padella, fece volare dalla finestra in testa gli invitati, che giungevano in quel punto i bignè gocciolanti d'olio bollente. Gli invitati, spaventati da quella gragnuola inaspettata, stimarono prudente raccogliere i bignè e tornarsene indietro. Intanto Marco Pigliapoco continuava a tuonare. Chi ha vuotato questa bottiglia? Chi l'ha vuotata? Non so. Azzardò con un fil di voce Donna Gaspara, rimasta con la padella inalberata nella posizione di presentattarme. Sconnetto che è stata bevita. E prima ancora che la moglie potesse trattenerlo, Marco si precipitò nella camera della figlia e come la vide, stesa sul letto che piangeva, la ferrò per un braccio e la tirò giù. Ma appena giù, la vide sotto quella scossa arrotolarsi come una molla d'orologio. Allora un'idea terribile gli attraversò la mente. Leoflexibili ferina, gridò. Ha bevuto leoflexibili ferina! Proprio così, Pepita aveva bevuto leoflexibili ferina e leoflexibili ferina aveva avuto il suo effetto meraviglioso. Da un momento all'altro la ragazza era diventata flessibile come una canna d'india ed elastica sì, che appremmene appena un dito in testa oscillava in su e in giù e rimbalzava come un saltaleone. E questo è niente! Bisognava vederla camminare. Ondeggiava a destra e a sinistra. Si torceva e si ritorceva su se stessa. Si avvoltolava e si svoltolava come un'anguilla in preda alle convulsioni. Donna Gaspara, chiedevano le vicine incuriosite, cos'ha vostra figlia che si asserpola a quel modo? Non lo sapete, rispondeva Donna Gaspara cercando a nascondere la verità. La moda adesso così vuole. E tutte le ragazze di Monte Saponetta allora presero la slucertolare di santa ragione per essere alla moda. Ma nessuna arrivava al punto di papita che sembrava disossata, tanto sorpeggiava con tutto il corpo in ogni movimento. Sicché il padre, impensierito, chiamò a consulto i due primari medici di Monte Saponetta. Il primo dei due che aveva la barba guardò la ragazza, tossì, raschiò, poi disse ponderatamente Io mi rimetto al parere del mio collega. Il collega che non aveva barba guardò, tossì, raschiò anche lui, poi disse con molta riflessione Anch'io! E fu questa la prima volta che si trovarono d'accordo. Ma voi non avrete dimenticato che Marco Pigliapoco aveva un fratello il quale non solo si chiamava Procopio ma era altresì costruttore in cementi armati e come tale aveva inventato l'eucorrobuliferina per dare ai suoi cementi la saldezza del granito. Procopio, come seppe la sventura della nipote, prese con sé un grosso pennello, un barattolo d'eucorrobuliferina e si avviò a casa del fratello. Qui trovò sulla soglia Marco e Donna Gaspara che gridavano fra le lacrime «Aiuto! Aiuto! Pepita s'annodata!» Procopio entrò dentro senza capire bene quel che fosse successo e trovò, come dire, trovò la ragazza ridotta a una specie di grosso groviglio dal quale sbucavano «Tue braccia e due gambe!» La poverina, così alta e dondolante com'era, si era tanto ripiegata su se stessa e poi stravolta che nel ritirarsi su in malo modo era rimasta attorcigliata a mezzo il corpo. Pareva, insomma, uno di quei nodi che si fanno alla cocca di un fazzoletto per ricordarsi di qualche cosa. Mentre i genitori si disperavano, Procopio non si perse di animo e gli ricordava come Alessandro il macedone avesse sciolto con un buon colpo di spada il nodo gordiano, ma il rimedio era troppo spiccio nel caso presente. Allora corse al porto e abordò il primo marinaio che incontrò sulla banchina. I marinai abituati a sciogliere ed annodare sarti e tutto il santo giorno hanno una gran pratica in materia. Questo poi doveva essere uno specialista perché appena fu in presenza di pepita con due abili colpi di mano maestra la mise nella posizione naturale. Allora si avanzò Procopio col pennello e il barattolo le fece un'applicazione e vi occorrò buoniferina poi la stese al sole ad asciugare. Dopo due ore era diventata rigida e stecchita che pareva una statuetta di bronzo. Donna Gaspara cominciarono a domandare da quel giorno le vicine cos'ha vostra figlia che cammina così impettita? Non lo sapete? rispondeva Donna Gaspara è cambiata la moda adesso si usa così. E allora tutte le ragazze di Monte Saponetta presero a camminare impettite per essere alla moda. grazie a tutti. Grazie a tutti.